Quest'anno, come l'anno scorso, parte del ricavato, buona parte del ricavato, andrà agli operatori del sorriso della Croce Rossa. Come ogni anno noi facciamo, cambiamo l'obiettivo della beneficenza, perché la beneficenza non deve essere mai univoca, a nostro avviso. Abbiamo fatto anche una donazione di 1000 euro alla Fondazione Pantani, che ci ha permesso di portare a Piacenza la bici del pirata per questo periodo, per questo evento. Questo evento si svolgerà dalle ore 11 su 4 ride, 4 ore di pedalata, e durerà fino alle ore 16.30, un evento sportivo dove pedalerà il Gregaro di Pantani, il presidente della federazione Group Cycling, Alfredo Venturi, e altri due master della federazione. Finito l'evento, ci sarà un attimo di stallo dove tutti i ragazzi che partecipano andranno a visitare i musei piacentini, grazie al gettone di presenza offerto dal comune di Piacenza, che collabora con l'evento. Dopodiché torneranno in chiesa alle ore 19.30 per una cena benefica, dove tutti noi con il naso rosso presenteremo ancora una volta la nostra beneficenza agli operatori, con tanta gioia e divertendoci.